Dopo due anni in rosso-nero, Sandro Tonali ha dimostrato di essere un abile trascinatore. Tanti gol chiave nelle ultime partite in una lotta scudetto più infuocata che mai. Ma facciamo un passo indietro. Torniamo a Brescia in una delle sue prime partite in Serie A. Brescia in Italia Brescia in Italia Brescia in Italia Brescia in Italia Grazie! 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 Grazie!